Soddisfatti del lavoro svolto durante la campagna elettorale che questa volta è stata lunghissima, è durata ben 4, forse anche 5 mesi, siamo abbastanza stanchi, anche il popolo è stanco dalle testimonianze che ho raccolto, di ascoltare tante parole, adesso si tratta di passare ai fatti concreti, chiunque vinca, l'importante è che il comune oggi venga amministrato, perché abbiamo passato dei mesi per i motivi che abbiamo spiegato con il commissario prefettizio che per quanto brava sia stata comunque non poteva certamente sopperire al potere politico. Certamente quello che abbiamo spiscerato in questi giorni è stato interessante sotto il profilo delle idee, ci siamo confrontati anche duramente e aspramente su alcuni programmi, spero tanto che tanti di questi programmi vedano la loro realizzazione, indipendentemente da chi li ha proposti. Una campagna elettorale sudata, come dicevate prima, però possiamo dire anche con un po' di frizioni. Certamente le frizioni ci sono state, insomma abbiamo avuto delle incursioni da parte non del mondo politico, ma dal mondo giornalistico, lasciano il tempo che trovano, avemmo preferito veramente tanto parlare solo di programmi, ma come dire, dalle parti nostre è facile scivolare un po' anche sugli aspetti un po' più folcloristici. Tante volte magari la popolazione le chiede pure durante i comizi questo tipo di atteggiamenti, di modi di parlare, di modi di fare, l'importante, ripeto, è che poi di questi programmi che abbiamo tanto lavorato per mettere insieme resti qualcosa e soprattutto l'impegno di realizzarli.